Buongiorno a tutti ragazzi, allora come primo video del giorno ovviamente sponsorizzo come sempre lo giocolo duro, vi ripeto è un ragazzo milanista che fa video non solo sul Milan, è molto obiettivo, parla appunto di Juve, Inter, Milan, Napoli, argomenti vari, ok? E merita secondo me molti più iscritti di quelli che ha, e insomma vi invito ovviamente come sempre a iscrivervi perché appunto merita, è un ragazzo equilibrato con il quale parliamo ogni tanto anche privatamente, quindi veramente vi invito a iscrivervi. Detto questo ragazzi, intanto mi è arrivata oggi la sciarpa, appena, sì poco fa insomma, la sciarpa della Juve, sapete che avevo l'altra, solo che siccome aveva il vecchio logo ho detto vabbè dai non uso più quella, infatti era tanto che non facevo il post partita con quella sciarpa lì, e uso questa qui invece, uso questa qui fino alla fine, con il nuovo logo ovviamente, che è abbastanza carina, nulla di che però comunque non è neanche male, ecco. 12 euro dallo Juve store ovviamente preso. Bon, detto questo, vabbè me la metto dove so tanto, come cazzo è il dritto qui che vabbè, allora detto questo, ieri stavo seguendo la live di Colpo Gobbo con Emilio che vi invito a seguire entrambi, anzi tra l'altro stasera sarò in live insieme a Colpo Gobbo e Nino JFC nel canale youtube di Colpo Gobbo dalle 21.30, quindi vi invito a seguirci lì, vabbè stavano parlando un po' di Genoa Juventus e dell'analisi tattica classica che fanno e a un certo punto Colpo Gobbo gli ha un po' girato la domanda che gli avevo fatto io nel gruppo Whatsapp con quelli del processo. Ciao, allora, no, una domanda volevo farti, perché Dani mi ha chiesto come lo vivono in Spagna il dualismo tra Barcellona e Real Madrid? Si accusano a vicenda di rubare tutte queste cose che succedono qua in Italia? Si, un po' si, un po' si, qui in Spagna il Real Madrid è la Juve della situazione che si ritiene che ruba, che ha favori arbitrali e quant'altro, però come in Italia noi in Italia siamo a dei livelli incredibili secondo me. Si, un'altra cosa che invece volevo dirti è la seguente, il Real ha una particolarità storica, ovvero il fatto che ha come simbolo la corona, ma è vera questa roba della tassa che andava al Real Madrid da parte del Re perché il Re era tifoso del Real? Ma, no, 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 oddio, non lo so, tutto può essere, si dice, si vocifera che agli inizi il Real era foraggiato dalle casse reali, ma questioni di tasse e quant'altro non credo. Ah, non c'è mai stato, vabbè, comunque alla fine sono soldi pubblici, però alla fine non c'è mai stato uno straccio di prova che provasse questa cosa in maniera, non era una cosa alla luce del sole. Che io sappia no, che io sappia no. Dani scrive a proposito di questo, quindi di fatto chi vince rompe le balle, cioè chi è sconfitto, rompe le balle e cerca l'alibi per sminuire la vittoria altrui? No, lui intende chi vince rompe le balle nel senso che dà fastidio come vincitore, quindi sì, però io ripeto, quello che ho visto in Italia, ho studiato in Inghilterra per quanto riguarda match analysis e scouting, perché sono stato a contatto giorno per giorno con ragazzi inglesi durante il campionato, vinceva una, vinceva un'altra, queste cose no. In Spagna un accenno, stile battuta, in Italia titoli di giornali addirittura. Bene, in sintesi ragazzi, cosa c'è da dire? Che praticamente sì, si accusa sempre chi vince di rubare, perché di fatto chi vince dà fastidio e quindi non è una questione di doping, complotti, palazzi, arbitraggio, cose del genere. Semplicemente chi dà fastidio, chi vince dà fastidio e non si riesce mai a fare un mea colpa, a tirare fuori i discorsi delle proprie colpe, ma si tende sempre a sminuire la vittoria altrui, buttandola sulla cazzara, sulla chiacchiera da bar e dicendo che quella squadra lì ha rubato. Questa cosa qui c'è anche da altre parti, come abbiamo sentito bene Emilio, a parte in Inghilterra, lì proprio sembra che non ci sia nulla. C'è anche in Spagna, però ho detto a livello dell'Italia no, perché qui in Italia ci sono addirittura titoli di giornali, si fanno addirittura trasmissioni sugli errori arbitrali, contro, a favore. Si tende sempre, questa cosa la aggiungo io, a indirizzare un po' le piazze, contro soprattutto una tifoseria, una squadra, una società che vince sempre. Mentre da altre parti c'è la battutina, c'è la battuta dell'episodio arbitrale a favore o contro, però ci si ferma lì. Questo è un grande problema che c'è qui in Italia, quindi di fatto la cultura dell'errore arbitrale, dell'alibi c'è ovunque, ma da altre parti non sicuramente quanto qui in Italia. Questo è alla fine il succo del discorso. Fatemi sapere la vostra, però volevo e ci tenevo, anzi ringrazio Colpo Gobbo che mi ha dato il consenso a mettere il video nel mio canale di quello spezzone lì della live, perché ci tenevo molto. Ok? E ringrazio ovviamente anche Emilio che mi ha risposto. Buona giornata a tutti e sempre, fino alla fine, Forza Juventus! Buona giornata a tutti.